buonasera si c'è di nuovo la felpa perché siamo intorno ai 22 stasera mai a 22 per me è freddo io sto bene appunto dai 30 che comincio a mettere la manica corta forse in su sotto ai 30 la felpa per me ed obbligo il pigiama felpato con ancora il pantalone dentro i calzini e ho ancora il piumone sul letto ci penso manco a toglierlo a 22 gradi per me il polo nord buonasera avevo già detto forse allora stasera ulteriore chiarimento sia per quanto riguarda la reincarnazione in sé che per quanto riguarda la tematica delle scelte dell'anima nelle sue reincarnazioni e sia per quanto riguarda i fili rossi questo perché perché negli ultimi video dove ho parlato un po di questioni reincarniche appunto è un po di situazioni varie con i fili rossi sono state evidenziate sia sui gruppi e sia su youtube stesso alcune domande in merito e quindi mi sento in dovere per lo meno per chi non ha capito bene l'argomento o nel caso in cui sia stata io a non spiegarlo al meglio di approfondire o ribadire ripetere certe nozioni per esempio qua su youtube un autente sul video di ieri mi chiedeva ma se nelle nostre vite terrene rincontriamo i nostri fili rossi vuol dire che di là ci siamo messi tutti d'accordo per reincarnarci nella stessa nazione perché ce ne saranno le persone sulla terra e parliamo solo della terra possibile che ci possiamo incontrare tutti e da lì e da altre domande comunque grosso modo simili che sono saltate fuori appunto con gli ultimi video esplicativi voglio chiarire un attimo queste postille degli argomenti partiamo con le scelte della reincarnazione forse ho lì ho errato io nella spiegazione non che ho errato ho spiegato in maniera un po troppo approssimativa e non ho specificato al meglio la questione delle scelte dell'anima quando si tratta di reincarnazioni l'anima non sceglie dove reincarnarsi quando come con chi e quando sopportare un amore perso non è che avete davanti tutto il libro della vita e dito ok accetto questo 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 è firmato il contrattino le anime hanno degli esami da fare esami scolastici da fare devono aumentare determinate loro si chiamano coltivazioni ma potremmo chiamarle materie io le chiamo coltivazioni perché sono abituato a utilizzare il termine occultistico e spiritista ma si possono chiamare benissimo materie scolastiche per farvelo capire meglio quando io accetto accetto non è che accetto perché non c'è nessuno che me lo propone l'accettazione parte dal presupposto che qualcuno te lo proponga in realtà non esiste nessuno quando io decido di approfondire una delle materie che mi mancano faccio una serie di scelte su quella determinata materia una materia per volta questo cosa significa significa che per esempio ho deciso sto facendo un esempio per far capire che quest'anno qua approfondirò storia la materia di storia quindi cosa faccio mi iscrivo a uno a due a tre a quattro corsi storie di storia storia antica storia dell'arte storia della letteratura storia che ne so storia del paleolitico poi mi compro una serie di libri di storia un libro sulla preistoria un libro sul medioevo un libro sul che ne so l'anno mille un libro a tematica delle di un determinato popolo o di una determinata tipologia di popoli per esempio della mesopotamia antica quello che riesco a trovare o quello che voglio trovare poi arrivo ho gli orari delle mie lezioni dei corsi che ho scelto e ho i miei libri però io non saprò mai prima di cosa parleranno gli insegnanti ai corsi di volta in volta e non saprò mai di preciso pagina per pagina cosa c'è nei miei libri finché non mi metto lì e seguo la lezione oppure leggo il libro è la stessa cosa io so che la mia coltivazione di questa vita avrà tre quattro cinque dieci punti focali che sono quelli che io ho scelto di coltivare in questa vita potrebbero essere la sopportazione della morte potrebbe essere la perdita dell'amore potrebbe essere la perdita di un figlio potrebbe essere la la vittoria al superenalotto potrebbe essere può essere sia bene che cioè sia triste che felice non è sono tutti nodi che dobbiamo passare e che dobbiamo fare all'anima di essere triste o felice nella vita terrena non gliene può fregare meno per lei è scuola quindi sceglie indistintamente di coltivare l'una o l'altra e deve coltivarle tutte non è che può scegliere di non coltivarne alcune ecco quando io però mi iscrivo al corso di storia della mesopotamia antica mi iscrivo arrivo al corso mi siedo la mia seggiolina vicino a me ci sono tre ragazzi da una parte due ragazze dall'altra che non conosco davanti a me non riesco a vedere chi c'è ancora mi giro e dietro di me c'era la mia vicina di casa è la stessa cosa i fili rossi non sono due o tre i fili rossi sono tanti i parenti d'anima possono essere anche 50 100 200 come possono essere tre ognuno di noi ce l'ha in maniera variabile come i parenti io ho quattro parenti c'è gente che ha soltanto di fratelli c'era 12 o 13 figuriamoci con i parenti annessi e connessi fanno un paese intero solo di parenti quindi è lo stesso ragionamento anche i fili rossi non ne abbiamo tutti uguali non è che tutti ce ne abbiamo 30 ce ne abbiamo 10 50 poi li incontriamo nel corso di una vita intera ma incontrare non significa che io ti vedo ti parlo sto insieme a te li incrociamo alcuni stanno insieme a noi anche perché magari si reincarnano in qualche parente in qualche amico che continua con noi il percorso di vita ma non è detto che ci siano potrei anche incontrare un mio filo rosso che è un pesci vendolo di amalfi e io una volta sola sono andata in ferie ad amalfi mai stata magari mi piacerebbe anche tanto ma mai stata ad amalfi e l'ho visto abbiamo parlato due giorni con sto pesci vendolo quello era un mio filo rosso ma poi ciao ciccia io me ne torno a casa mia lui resta lavorare ad amalfi quindi ma c'è addirittura gente che conosco che tra i suoi fili rossi o anche di più anche personaggi che sono stati in questa vita terrena cantanti o attori ma non li ha neanche mai incontrati realmente però sentiva questa specie di familiarità anche solo guardando un loro film o ascoltando una loro canzone l'altro punto che mi chiedono è che si si confonde è quello del come si fa a riconoscere un filo rosso ma non ve ne frega niente nella vita terrena ma anche di là poi non ve ne frega niente però di là è un parente d'anime quindi comunque certe certi viaggi di là li potete confrontare insieme mettiamola così per semplificare perché sarebbe troppo complesso il discorso animico ma di qua che uno sia stato un vostro filo rosso o non lo sia non ve ne può frega di meno a meno che non abbiate un compito datovi dall'universo con dei doni specifici che sapete che conoscete avete le certezze di questo e non ma forse io perché sentivo avevo sogni premonitori quello non è avere dei compiti precisi compiti precisi sapete di averli perché arriva qualcuno che vi dice ce l'hai e devi fare questo questo e questo però ecco se ci sono dei compiti precisi in quel caso lì fili rossi che fanno parte di questo stesso disegno di questa stessa missione data dall'universo dato dagli anziani e dei guardiani dell'universo in quel caso lì si ritrovano e si riconoscono perché hanno necessità di farlo ma hanno anche i doni per poterlo fare ma una persona comune che fa una vita normale che non ha dei doveri verso l'universo e non ha degli impegni presi animicamente non gliene può fregare meno se il lattaglio era un suo filo rosso o se la mamma lo era e la nonna lo era di là i sentimenti sono diversi non gliene frega niente a nessuno non sono come di qua lo dico sempre non dovete confondere ciò che sentite qua con ciò che poi sentirete di là ma a livello animico qui nelle vite materiali di chi è il vostro filo rosso e di chi non è non ve ne può fregare de meno perché potreste andare d'amore d'accordo con persone che non sono assolutamente vostri fili rossi potreste odiarvi con persone che invece lo sono o viceversa potreste amare qualcuno che ha un vostro filo rosso e potrebbe stare sulle palle uno che però non l'avete mai visto conosciuto poi sul discorso del fatto che sul pianeta terra siamo 60 miliardi quasi 70 adesso ho perso il conto non ho più seguito quanti eravamo diventati ma grosso modo eravamo intorno ai 60 miliardi l'ultima volta che ci ho fatto caso poi io non seguo queste cose dai tranquillo che nel corso della vita quelli che si devono incontrare in quella vita si incontrano perché anche il filo rosso è un po' calamitico cioè si cerca un po' a livello inconscio e quindi non fa niente che un tuo filo rosso stia in corea l'altro filo rosso stia in giappone l'altro stia a new orleans ci sarà modo e maniera che in qualche modo vi trovate ma vi trovate significa che potete anche solo parlarvi via chat non è detto che dovete incontrarlo e vivere insieme tutta l'esistenza con lui o con lei questo non ha senso con le colleghe della congrega siamo fili rossi tra l'altro noi abbiamo anche ricordi reincarnici di regressive di altre vite di come siamo state amiche o imparentate e via dicendo eppure io delle mie colleghe di persona faccia a faccia ne ho conosciute due cristina e aliona ma considero anche le altre come sorelle ma io noi abbiamo dei compiti diversi noi siamo qua più per altri motivi che non per la nostra coltivazione animica che non avrebbe neanche bisogno di essere coltivata ora come ora ma questi sono discorsi a parte nostri personali però ecco noi siamo un caso a parte ma la vita comune le persone comuni che svolgono le vite per appunto apprendere le loro coltivazioni che sono state scelte ma solo le coltivazioni se io cerco mi stavo strozzando io cerco sempre di fare esempi perché secondo me con l'esempio una persona comprende meglio l'argomento se io scelgo di venire a fare la coltivazione della perdita dell'amore perché ho scelto quella vengo in questa vita non ho scelto anche con chi quando come in che modo io potrei perdere una volta l'amore perché c'è litico una volta perché me more una volta perché me molla una volta perché me fa cornuta insomma sono sfigata tutta la vita in amore il nodo focale che io ho scelto era proprio di essere sfigata in amore non ho scelto con chi quando dove perché poi sono le vibrazioni universali che ci indirizzano nel luogo dove a seconda di altre scelte di altre anime si potranno verificare quelle che ho scelto io se io scelgo di in questa vita di patire la sete tanto per fare un esempio terra 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 è normale che l'universo non mi farà reincarnare in una valle di fiumi acqua potabile mi farà reincarnare nel deserto tra le tribù del deserto o comunque in posti dove la sete la posso patire lì magari ci saranno altre persone che dovranno fare lo stesso percorso oppure ci saranno persone che dovranno fare il percorso di aiutare chi ha sete e e via dicendo ci saranno persone che dovranno asciugare la bocca che ha bevuto che ne so ecco quelle sono le energie universali che poi indirizzano dove nascere la scelta della famiglia di norma è scelta dall'anima cioè il figlio che sceglie dove nascere ma comunque un limite di zona se io appunto ho necessità di nascere nel sahara io posso scegliere se reincarnarmi ora che c'è quella donna lì che è incinta o reincarnarmi tra tre anni che rimarrà incinta quell'altra quello sì posso anche sceglierlo ma sempre lì non posso dire devo morire di sete mi voglio reincarnare in giappone vicino alle terme potabili perché non non avrebbe senso con la mia scelta animica immaginatela così per farvela più semplice possibile quando io sento io sono un'anima a come sono trasparente sono un'anima in carne però sono un'anima arrivo dove devo scegliere la mia coltivazione perché sto cominciando a perdere energie sto cominciando a finire i miei sacchettini per mettere dentro le energie nel mondo materiale mi hanno dimenticata quindi non mi mandano più ricordi non mi mandano più energie esterne e devo reincarnarmi proprio anche per me era sopravvivenza oltre che per elevazione allora vado sullo scivolo in cima allo scivolo che mi manda nella mia reincarnazione ci sono un miliardo di scivoli un triliardo di scivoli scelgo quello dove io devo fare la coltivazione dell'avere sempre il mal di denti perché coltivazioni non sono cose di importanza estrema a livello umano come può essere devo lottare per la parità dei diritti o quelle cose lì eh devo praticamente posso anche dover patire appunto un mal di denti per tutta la vita scelgo lo scivoletto dove si è scritto un mal di denti perenne mi lancio scivolo 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 quando arrivo in fondo mi capapulto e poi ando a terra a terra sono direzionati nel punto giusto dove in quell'ambiente che può essere più piccolo più grosso io farò quell'esperienza se io devo fare l'esperienza di essere anche cose meno simpatiche di essere magari uccisa di essere picchiata di essere perché posso scegliere anche quelle perché anche quelle sono coltivazioni non esperienze che vanno fatte sceglierò lo scivolo dove me menano lo scivolo dove mi abortiscono lo scivolo dove mi fanno fuori lo scivolo dove mi sfruttano che che sia ma anche le cose che noi umani consideriamo belle se devo devo fare l'esperienza di essere ricca sceglierò lo scivolo per essere ricca il discorso quando mi fanno il discorso e ma chi sceglierebbe di farsi ammazzare e ma chi sceglierebbe di farsi stuprare e ma chi sceglierebbe di farsi saltare in aria una bomba a livello umano materiale ovvio manco morta sceglierei una strada del genere ma quando siamo di là la vediamo in maniera diversa è un'esperienza che l'anima deve fare una materia che l'anima deve imparare e quindi la scegliamo alla fine perché di là il tempo non esiste lo dico sempre e quindi il rapporto di una vita intera che sia una vita che dura due ore che sia una vita che dura 70 anni che sia una vita che dura 30 a noi ce ne frega niente una giornata di scuola due quando proprio è tanto lunga inoltre non siamo singoli soggetti cioè quando noi veniamo qua nelle vite materiali non veniamo solo per noi egoisticamente per la nostra anima noi veniamo per la nostra anima ma la nostra anima la nostra persona in queste vite reali serve per tutti gli altri che incontriamo è una ragnatela voi servite a me ma io servo a voi e siamo tutti così non è che siamo non c'è quello che viene gli altri che gli servono per come qualcuno come aveva scritto ma allora quelli che incontriamo ci devono insegnare qualcosa non è detto potremmo essere noi che li incontriamo perché gli dobbiamo insegnare qualcosa o comunque gli dobbiamo far vivere qualcosa che è più corretto a causa nostra quella persona vivrà una determinata esperienza o capirà una determinata cosa o seguirà un certo percorso quindi possiamo anche essere nell'arco di questa vita terrena oltre alle cose che interessano la nostra anima noi siamo anche fautori del destino degli altri e tutto è legato a ragnatela siamo tutti collegati tornando al discorso del chi è chi non è il filo rosso chissà perché chissà perché non è non ce ne può fregare meno non c'è un modo l'unico modo che può esserci è a sensazione a pelle quella persona mia simpatica a pelle posso pensare che potrebbe essere stato un filo rosso c'è una persona già conosciuta tanto per farla breve oppure mi sta sulle palle a pelle sulle palle a pelle figlio da pollo non c'entrava niente come era a pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo vabbè niente sono le mie lugubrazioni sull'infanzia e a livello di utilità non ce ne può fregare meno se quello è un parente d'anima o meno tanto non dobbiamo comunque cambiare il nostro modo di rapportarci averne un'idea per noi stessi avere un sospetto ci può aiutare in qualche modo quando per esempio quella persona mi sta sulle palle a pelle faccio un esempio ovviamente magari in qualche vita passata è un mio filo rosso in qualche vita passata mi ha fatto fuori o abbiamo litigato mi ha rubato il marito mi ha rubato la moglie mi ha rubato il gregge mi ha fregato l'ultimo dinosauro quello che sia se io in qualche modo ho un'idea che potrebbe essere appunto un filo rosso che mi ha fatto qualche cosa in questa vita cerco invece di farci amicizia in qualche modo di comprendere anche il suo lato questo per appianare anche le energie di contrasto proprio con le anime che comunque ruoteranno sempre intorno a noi ma ecco il succo del discorso iniziale noi possiamo avere 30 50 10 3 200 fili rossi ma non li incontriamo tutti in quella vita se ci sono i fili rossi incarnati in quella dimensione spazio temporale ci sarà più possibilità che noi nella nostra esistenza intera li incrociamo perché sono un po calamitici sono un po magnetici un pochino si attirano involontariamente si attirano nel senso che si attirano a conoscersi ma non si incarnano tutti e sempre quindi quelli che non si sono reincarnati in questa vita non incontro punto ma anche il filo d'argento stesso non si reincarna sempre nello stesso nello stesso spazio tempo quando infatti l'ho spiegato dove ho spiegato nel video che ho spiegato dell'anima non ha sesso che se una persona non ha il filo d'argento reincarnato in quella vita tende a non avere degli stereotipi di gusti tende a essere anche volubile quindi potersi innamorare solo delle anime che incontra e quindi poter amare anche indistintamente sia l'uomo che la donna e via dicendo proprio perché non c'è il magnetismo di attrazione verso lo stereotipo che il nostro filo d'argento ha come aspetto spiegato ieri e l'altra volta nell'altro video stesso discorso vale per i fili rossi se ci sono è facile che li incontriamo quasi sempre anche solo di sfuggita anche solo visti per strada però ci sarà un modo che ci incrociamo se non si sono reincarnati niente ci c'è chi se ne frega saranno andati da un'altra parte saranno là saranno reincarnati in un'altra epoca anche perché la reincarnazione non è lineare col tempo di là il tempo non esiste quindi magari io sono qua un mio filo rosso nella preistoria l'altro mio filo rosso invece nel 3227 che vuol dire ma eccolo lì quando io dico che i fili rossi nelle vite reincarni che si rincontrano sempre si rincontrano sempre sì ma quelli che si sono reincarnati in quella vita se non si sono reincarnati in quella vita perché solo dall'altra parte non l'incontriamo ecco forse questa parte qua non era abbastanza chiara io spero di aver chiarito in parte se non ho confuso di più le idee perché è difficile non potendo descrivere appieno la situazione proprio reale del tutto ma per far comprendere a tutti quanti il metodo di base di questa situazione reincarnica bisogna fare degli esempi che le persone terrene e materiali possano comprendere spero di essere riuscita a spiegarlo meglio e come al solito ripeto quando mi chiedete scusa ma se ti faccio le domande ma che scusa mi fate un favore se mi fate perché poi so dove andare ad ampliare la spiegazione come stasera per esempio quindi vi saluto ricordandovi che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove io frequento come al solito è un po più sotto ci sono tre o quattro le più conosciute ma ce ne sono mille mila delle librerie sia online e sia fisiche che che tengono in vendita i miei libri sempre cinque ad oggi mi sono data una calmata scrive perché non ce la faccio a sta dietro a tutto e ma per i libri anche se andate su google e scrivete sveva molinaro libri escono persino in irlanda in islanda in giappone in asi in pubblico proprio ma in generale e basta ora vado a prendermi la pizza che era pronta per le 9 stasera ciao